Grazie a tutti. E sempre stando in ambito sportivo parliamo di calcio ma in questo caso il calcio d'eccellenza al via domani la prima giornata di ritorno del campionato. L'Alguero reggiusce dalla vittoria di Castiadas ma nella Tana della vice capolista Olbia. Il Fertilia che ha perso in casa con il Muravera ospiterà invece al Mariotti il Tavolara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La squadra però non ha infortunati né squalificati. L'allenatore giallorosso dovrà mettere in campo la migliore formazione per cercare di arginare gli olbiesi che hanno dimostrato di essere una compagine forte e di meritare la posizione di classifica che hanno. Di contro i catalani quinti andranno a vendere cara alla pelle. All'andata aveva vinto l'Olbia e il Mariotti per 1-0. L'Alguero è quinta a quota 31. Intanto la società ha viste le due partenze alla ricerca di un innesto in attacco. Partita insidiosa anche per il Fertilia che ospita il Tavolara. La squadra di Massimiliano Pabe è reduce da due sconfitte consecutive con Torres e Muravera e deve necessariamente invertire la rotta per restare tra le prime. Come detto la partita del Mariotti di domani non sarà facile. Il Tavolara di Mister Tatti è una delle squadre attrezzate per la corsa finale ma in questo girone d'andata non è stata continua e in classifica 25 punti, 9 in meno dei Giuliani. La forza di questa squadra è sicuramente l'attacco con Iba e di Pasquale, quest'ultimo autore del gol vittori a Pula. Paba non avrà tra i pali il portiere titolare Piras, espulso giovedì al suo posto Bardino. Nota positiva tra le fila Giuliana e il recupero di Puddu disponibile dal primo minuto. All'andata era stato il Fertile a vincere per 1-0. In promozione si gioca invece la penultima giornata di andata, la numero 14 per l'esattezza all'Olmedo. Si prepara per ospitare al pintore Cadeo Lusinese, quarta in classifica insieme alla Dorgalese con 26 punti. La formazione di Murone è ancora alla ricerca del suo primo risultato utile. In classifica infatti è ultima a 0 punti. Anche in seconda categoria si gioca la quattordicesima giornata. Sarà derby domani tra Pietraia Alghero e Maristella. Le due formazioni locali che si trovano in classifica a distanti 9 punti, la Pietraia sta sopra, si affronteranno sul sintetico di Santa Maria La Palma. Giovedì la squadra di Nando Corredo ha pareggiato a Cossoine, mentre il Maristella non ha giocato contro la capolista Sprintittiri. La gara non è stata disputata infatti per il mancato arrivo dell'arbitro. Ed ora il rugby. La Novaco Alghero partirà questo pomeriggio per raggiungere l'Abruzzo. Domani alle 14.30 il 15 di Leonardo Roldan sarà infatti impegnato nella difficile gara sul campo della capolista Avezzano. Gli algheresi cercano ancora la prima vittoria fuori dalle muramiche, anche se domani non sarà sicuramente facile. Dopo la pausa di un turno si ritorna in campo nel campionato di Serie A di rugby. Nel girone 2 l'amatorino Vaco Alghero sarà impegnata sul campo della capolista Avezzano. Guardando la classifica quindi, quella di domani pomeriggio è sicuramente una gara proibitiva per i gialloneri di Leonardo Roldan, che cercano ancora la prima vittoria esterna della stagione. Gli abruzzesi però non rappresentano proprio i migliori candidati per fare questo risultato, anche se non si può mai dire. Gli algheresi sono reduci dalla loro quarta vittoria a Casalinga contro il Badia e come detto vorrebbero trovare i primi punti anche fuori dalle muramiche. La squadra che partirà nel pomeriggio alla volta dell'Abruzzo non porterà con sé l'esterno Tongano, infortunato, così come il pilone Lynch assente per motivi familiari che lo trattengono in Inghilterra. A mezzo servizio invece l'ala Palumbo, comunque in trasferta con la squadra. Fischio d'inizio della gara alle 14.30 di domani. Spettacolo e acrobazie per la prima edizione di Sexboard Skate Contest, tenutasi nello skate park di Via Domenzoni il giorno dell'Immacolata. Nicola Gaias ha dominato la categoria Under-16, Enrico Carta invece si è imposto in quella Over-16, mentre a Federico Spano, algerese, va la Coppa come best trick, miglior manovra. Ben 50 gli atleti iscritti. Nel giorno dell'Immacolata lo skate è stato protagonista ad Alghero. Nello skate park di Via Domenzoni grande successo e partecipazione per l'edizione numero uno del Sexboard Skate Contest. I primi a far correre le tavole sono stati 34 atleti iscritti nella categoria Under-16. La gara è stata molto combattuta e ha messo uno di fronte all'altro ragazzi dai sei anni in su che si sono sfidati in batteria da due persone e la cosiddetta run della durata di 60 secondi. Alla fine l'ha spuntata il sassarese Nicola Gaias del team Outlaw di 14 anni, seguito da Andrea Pio, team Monkey Surf. Sul terzo gradino del podio invece Andrea Cucureddu, 13 anni di Olmedo del team Sexboard che ha gareggiato nonostante un infortunio. Pubblico e giuria sono rimasti impressionati dalla velocità e dalle esibizioni dei 10 atleti della categoria Over-16. L'attento lavoro della giuria dopo il conteggio dei punti ha premiato Enrico Carta, atleta del team Reason, Luter e Siem Khi. Al secondo e terzo posto due ragazzi di Cagliari, Gianmarco Pala del team Reason Evans e Andrea Arrolesu del team Wipeout. Il premio come Best Trick, cioè la miglior manovra, l'ha conquistato Federico Spano di Alghero del team Sexboard, che ha portato a termine una difficile acrobazia e il 360 Flip Tail Grab Bank to Bank. Nello skate park si è inoltre tenuta l'esposizione di materiale tecnico dei marchi più rappresentativi del settore e il Nameless Fingerboard Contest, una speciale competizione in cui si utilizzano minuscole tavole da usare con le dita, dove ha primeggiato Alessandro Eletti, seguito da Fabrizio Caso e Stefano Pilo. Per tutta la durata della manifestazione il DJ Black Sheep ha dato la carica agli atleti a suon di musica rock. Gli organizzatori dell'evento, Vincenzo Di Piero, Carlo Cano e Giulio Pala, fondatori dell'associazione La Tenaz, che organizza ad Alghero anche la scuola skate, si sono detti molto soddisfatti per questa prima edizione. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta altro che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon fine settimana. Arrivederci.